Io vi giuro ragazzi, io vi dico la verità, io considero quello che ho appena visto, quello che è appena successo, una delle cose più allucinanti che ho visto a Roma negli ultimi vent'anni di calciomercato. Una delle cose più assurde che sono mai successe negli ultimi anni. Ancor peggio della cessione di Salah a Liverpool. Ancora peggio. Io penso di essere stato uno dei pochi a crederci fino all'ultimo a una sua permanenza. Ormai tutti facevano i posti d'addio, addio, addio. Io probabilmente ero uno dei pochi che ormai si aggrappava la piccola speranza che potesse rimanere o quantomeno potesse essere ceduto all'estero. Ma io a pensare che abbiamo fatto un affare praticamente solo a favore dell'Inter, mi lascio senza parole. Una squadra che l'anno scorso ci è arrivata dietro in classifica, che è arrivata quarta, non decima, gli abbiamo regalato, e non diciamo puntate, gli abbiamo regalato, regalato, al 20 giugno, uno dei nostri migliori giocatori. Per 24 fottuti milioni di merda e il Napoli con 60 ci sta vendendo Giorginho, no Mertens, no Coulibaly, Giorginho, 24 milioni più Zagnolo, che è un fottuto giocatore della primavera, che non ha fatto neanche una presenza in Serie A, è Santon, è Santon, ma io sono sicuro che gli interisti stanno festeggiando più per la cessione di Santon che per l'acquisto di Nainggolan, io ne sono sicuro. E abbiamo fatto un affare solo per loro, a quale pro, a quale pro, io non mi capacito perché abbiamo dovuto fare questo affare così veloce all'Inter, per darlo all'Inter, e ci siamo presi un giovane sconosciuto, almeno per quello che so io, è un pippone di merda, un pippone di merda. Io adesso voglio vedere se tu andavi a Milano e gli proponevi Bruno Perez, Antonucci e 26 milioni per Perisic. Vediamo che ti dicevano, vediamo se ti dicevano sì ok, tienilo, te lo do prima, te lo do anche per 24 milioni così sistemi il fair play finanziario perché voglio bene, perché ti voglio bene. Io spero che ci sia stato un accordo pre, cioè un accordo tipo che tu anche l'anno scorso gli hai fatto fare un anno ma poi sapevi che l'avresti ceduto, perché se no ragazzi è una cosa da pazzi, una cosa da pazzi, abbiamo dato Nainggolan all'Inter, no all'Atletico Madrid, no all'Inter, senza problemi di bilancio, il giocatore voleva rimanere. Questa è una cosa allucinante, questa è stata una cosa allucinante. Io sono d'accordo nel dire che è un giocatore che professionalmente è problematico e quello che è, ma ragazzi, ma ragazzi, questo può giustificare una cessione così assurda a dei nostri diretti concorrenti? Sarà possibile che noi dalle grandi del nostro campionato non riusciamo mai a prendere un ottimo giocatore? Perché uno degli ultimi, Salah, l'abbiamo preso dal Cezzi, mica dalla Fiorentina, se no loro col cazzo che te l'avrebbero dato. I migliori che abbiamo preso, i migliori, dall'Inter Burdisso, dal Milan Borriello, dalla Juve nessuno perché loro manco l'Iksteiner ti danno. No, noi invece diamo Pjanic alla Juve, Nainggolan all'Inter, mi aspetto che il prossimo anno diamo pure Gekko al Milan, Gekko al Milan e siamo a posto, diamo via tutti i nostri migliori giocatori. Adesso Pastore potrà fare quello che mi pare, ma per me di principio aver dato Nainggolan all'Inter è una cosa assurda e io non capisco la frettolosità di questo affare, non la capisco. Non dovevamo sistemare dei bilanci, noi eravamo a posto, erano loro che dovevano sistemare, noi eravamo a posto. No, no, gli abbiamo dovuto fare così, proprio veloce, proprio impacchettiamolo, porca miseria, perché lui ha ucciso qualcuno, perché lui è un danno per la Roma, è un essere immondo. Adesso, perché è stato ceduto, molti tifosi lo considerano, eh, ma era un cattiva persona e faceva questo e quell'altro. Ragazzi, ragazzi, l'ho detto anche nel video di oggi, non diciamo puttanate, non ci prendiamo in giro. Non è che si ha fatto due o tre cazzate nella sua carriera, allora è giusto regalarlo all'Inter per 20 milioni, più un pippone de merda, più un pippone. Ok che serve una riserva di Kolarov, ma non serve per forza una pippa de merda. Un giocatore scandaloso, un giocatore scandaloso. Siamo pensando, io non lo so, cioè, io sto cercando di vedere il lato positivo di quest'affare, non c'è, vi giuro che non c'è da nessuna parte, perché ci siamo presi un pippone, gli abbiamo dato un top player e loro ci hanno dato una ventina di milioni. Poi, lascia sta che secondo me, come mi ha detto anche il mio amico Alfred sul gruppo, probabilmente altri milioni verranno dati in nero a parte, perché comunque funziona così, perché l'Inter deve mettere a bilancio un tot cifra e quindi quella ha dovuto mettere a bilancio. E questo ormai lo sappiamo che questi intrallazzi ci sono nel calcio, sia moderno che non. Però, in ogni caso, è qualcosa di schifoso, qualcosa di schifoso. Adesso io mi auguro che sto pastore faccia il fuoco e fiamme, perché se il prossimo anno Nengolan ci farà un qualche danno, in qualche modo, ovviamente calcisticamente parlando, io voglio la testa di Monci, voglio la testa di Monci, perché voi potrete dire, eh sì, ha preso Marcano, Clivert, Tizio, Caio, Pep, Pulo, quello che vi pare. Ma di questi non c'è un top player, di quelli che ha preso finora non c'è un fottuto top player. Ci sono tutti buoni giocatori, non c'è un top player. Quello che avevamo l'abbiamo svenduto, non l'abbiamo venduto. Che ci può stare? Non l'abbiamo venduto all'Inter. Anch'esso ci può stare, ma gliel'abbiamo regalato! Gliel'abbiamo regalato! Gli abbiamo messo lo scontrino saldi, saldi, 50% di saldi, e gliel'abbiamo regalato! Io non pretendevo 80 milioni per Nengolan, sappiamo che è un'esagerazione, per l'età è tutto. Ma 40 milioni! Che cazzo ci faccio con Santon? Che cazzo ci faccio? Posto e contropartite, ma quanto l'avranno valutate? Se dicevano affare all'incirca di 40 milioni, ma sto Zaniolo vale 10 milioni, Zaniolo? Santon quanti ne vale? Meno 5? Mamma mia, mamma mia, mamma mia! Io non ce la faccio! Non posso immaginarlo a vedere lo cammai dell'Inter! Non ce la faccio! Non ce la faccio! Non ce la faccio! Non ce la faccio! Mamma mia, la Ingolana all'Inter! Adesso lo sentite tutte! Adesso lo sentite tutte! Lo sentite tutte! Lo sentite! Lo sentite tutte! Diavolo scannato! Piamoci sto pastore, va adesso! Adesso io ti ferò chiunque se arrivi al suo posto e non me ne frega un cazzo! Mamma mia, ragazzi! Fammi chiudere i video! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Senza parole!